Dall'attentativo di prima approvazione della legge regionale sui liberi consorzi ad oggi abbiamo assistito ad un ridicolo gioco di forza fra politica regionale e nazionale, quest'ultima chiamata in causa da alcuni sindaci che pretendevano di godere degli stessi poteri dei colleghi del continente. Ci dispiace osservare che la battaglia fra questi alti rappresentanti del popolo si sia limitata a rettificare e correggere la legge non tanto per migliorare la condizione dei territori e rispettare la volontà popolare ma quanto per accrescere il potere gestionale della politica. Lo dice il portavoce del comitato Gelensis Populus Liliana Bellardita. Ricordiamo con estrema amarezza che all'inizio questa legge consentiva la creazione di nuovi liberi consorzi con una popolazione di 150.000 abitanti cosa che avrebbe consentito a Gela di poter realizzare il suo sogno di indipendenza. Poi però i deputati, percepito questo pericolo, decisero di complicare la strada per il nostro territorio innalzando il limite demografico a 180.000 abitanti. È sconcertante osservare come in quel caso la politica trovò un veloce accordo. Alla luce di queste manovre è lecito chiedersi se il Parlamento palermitano lavori per gli interessi dei siciliani o no. Attraverso la posizione presa ieri dalla prima commissione e dai capigruppo che propongono l'adeguamento della riforma delle province alla nazionale della Rio in calza Gelensis Populus ci si china agli irremovibili dettami romani. In questo frangente di ulteriori aggiustamenti legislativi proporremo al sindaco di Gela di mettere in campo ogni iniziativa scegliendo in maniera concertata professionalità che possano difendere la volontà popolare della comunità gelese dinanzi a questo ennesimo scempio e alla politica regionale di poter modificare anche il parametro demografico necessario per la formazione di nuovi liberi consorsi auspicando che lo stesso possa essere riportato a 150.000 abitanti così come era nella prima stesura della legge. Ma già pronostichiamo la risposta. È oramai scontato pensare che Lars applichi il principio del debole con i forti colleghi romani e forte verso gli inermi cittadini siciliani. Oramai, continua la nota, è difficile aspettarsi che questa certezza venga sonoramente smentita e quindi il nostro auspicio è che si faccia giustizia del percorso fatto per un territorio che ha dovuto scegliere per la sua libertà e dignità di aderire alla città metropolitana di Catania. Ci auguriamo perciò che almeno ora le nostre rappresentanze a qualunque livello difendano la conquista democratica raggiunta dai gelesi, dai piazzesi, dai nicemesi e dai licodiani.